OOOOOOOH! Cosa basta eh? OOOH! OOOH! Non so che vorrei chiusi che l'hai ignorato che l'ignorati. Ma... Nooooooo! Non è un paese! Ma che ha? Copri lei, dietro! Oh oggi le come che hai qualche traggo? Ok, non è? Sto pesando tutto quello. Ehi, non sta, è un paese! Grazie.